Salve la nostra città, salve la Santa Restituta e ci incantiamo le azioni al ritorno del suo santuario. La donna più cara al territorio sarà la memoria più diversa. Salve la nostra città, salve la nostra città, salve la nostra città. Salve la nostra città, salve la nostra città, salve la nostra città. Salve la nostra città, salve la nostra città, salve la nostra città. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra forza ampia. Grazie a tutti. La madre di misericordia, vita dolcezza, speranza nostra sua. La partecipazione all'umalistia ci aiuterà a prendere questa consapevolezza. Vogliamo pregare la Madonna che comunque è avvarsa a sempre raccomandato il servono dei cani e la connessione alla fine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.